Oggi vi mostro qual è il metodo migliore per stendere la paraffina sopra la tavola soft. Esistono delle paraffine apposite per le tavole soft, tipo questa è una Mrs. Palmer. Facciamo delle righe oblique senza spingere troppo sulla tavola, poi giriamo la paraffina e facciamo le stesse righe ma incrociate, quindi dall'altro lato, poi mettiamo la paraffina piatta e facciamo dei cerchi, rimaniamo leggeri e strisciamo velocemente, copriamo bene tutta la superficie dal tail fino a dove è necessario, mi raccomando non fate uno strato troppo spesso di paraffina, la tavola grippa già a sufficienza anche con uno strato veramente sottile. Ovviamente non tutte le tavole soft sono uguali, alcune sono più ruvide e hanno bisogno di meno paraffina, alcune sono più lisce e hanno bisogno di più paraffina. Questa ad esempio è una tavola più rubida quindi dovrò utilizzare sicuramente meno paraffina, faccio solamente delle strisciate leggere e solamente dove metterò i piedi. cerchiamo di non fare uno strato troppo spesso di paraffina, piuttosto preferisco fare uno strato sottile prima di ogni session. Ok, se avete dei dubbi scrivetelo qui sotto nei commenti, ricordatevi di cliccare su questo link per iscrivervi al canale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!